Questa sera Kifra TV è con Angelo Belmonte, ben trovato. Grazie, ben trovato a te. È un piacere, è un piacere conoscerti e soprattutto farti conoscere dai nostri ascoltatori, anche se tantissimi che ci stanno guardando ti avranno riconosciuto come leader di Nitrofosca, di cui parleremo tra pochissimo. Perché? Perché adesso dobbiamo parlare di un tuo progetto, perché il primo di marzo uscirà Sovrani. Parlaci di questo lavoro. Sovrani è un pezzo che avevo nel cassetto. In realtà in questo periodo senza live stiamo facendo musica diversamente, quindi è anche un periodo di riflessione. Vedendo negli harddisc ho ritrovato questo brano che parlava un po' che è una ballata contro tutte le guerre, ironica, una ballata contro la violenza in genere. E quindi anche se è un pezzo del 2014, l'ho trovato molto contemporaneo, sia come suoni che anche come testo, soprattutto, che faccio riferimento quando lo andrete ad ascoltare a Bush, a Berlusconi, al Mollà della Libia e del Medio Oriente. Quindi un po' una ballata ironica contro le forme e contro tutte le guerre, diciamo. Vogliamo tranquillizzare chi ci ascolta, non c'è una separazione in atto, è semplicemente un tuo progetto che avevi già in cantiere e che adesso stai mettendo in pratica. Assolutamente, io porto parallelamente, porto sempre i miei altri progetti nella musica, tra cui quelli dei singoli. Io in questi anni ho comunque lanciato altri brani che sono molto più intimi, che vanno al di là del progetto Nitrofosca. Sovrani esce il primo marzo e a distanza di un mese uscirà un altro singolo, Crisi, Crisi Blues, di estrema attualità come argomento. Anche questo, anche questo è un vecchio brano e lo stiamo facendo uscire adesso, che non abbiamo niente da fare, quindi lo facciamo uscire così. A distanza di un mese c'è quest'altro pezzo, che è un pezzo un po' diverso a livello di suoni, mentre l'altro è un brano pop, Sovrani è un brano pop arrangiato da Paolino degli SFK, mentre è Fabio Zippo, mentre Crisi, Crisi Blues è proprio un blues con armoniche, chitarre e parla, il testo anche qui parla della crisi in genere, ne tocca un po' tutti, ci siamo tutti, dal giornalista, al calciatore, al fruttivendolo, al barista, siamo tutti in crisi. Dove nasce l'idea di presentare due singoli, uno a distanza di un mese dall'altro? Senti, come dicevamo prima, la musica sta cambiando, è cambiata, è cambiata tutta, anche nel modo di fruire la musica e lanciare il singolo per poi presentare l'album, così come era in passato, andava a togliere l'ascolto reale degli altri brani. Quindi, dal mio punto di vista, adesso lancio due brani, lancio insieme, do la possibilità di ascoltare, avere il tempo di ascoltare un mese bene, Sovrani, l'altro mese si ascoltano Crisi, Crisi Blues. I brani usciranno su tutte le piattaforme digitali? Piattaforme digitali, quindi da Spotify a YouTube Music, a Amazon, a Apple Music. Vediamo l'ora di ascoltarlo, Sovrani, poi a distanza di un mese dal primo di aprile, Crisi, Crisi Blues. Facciamo un passo indietro, ripercorriamo un po' questi ultimi mesi, quanto ti sta mancando esibirti dal vivo, tu che con Initrofosca sei un animale da palcoscenico? Noi siamo nati per fare quello, il live, quindi effettivamente se ci penso mi manca, se non ci penso non mi manca, perché mi sto riposando, perché poi è sempre così, è un ciclo vizioso. Quindi nel momento in cui dici, no, quest'estate mi riposo, non voglio più suonare, perché abbiamo la media di 30-40 live tra il concerto Initrofosca, il concerto dei Gomen con la formazione Blues in acustico, quindi siamo sempre operativi. Quindi questa fase, mi manca il live, ma è una fase di riflessione e di pausa che spero può far bene e spero finisca presto. Tanti però sono stati riconoscimenti negli anni per Initrofosca, avete suonato anche all'estero, in Germania, tanti premi per una formazione locale che esporta la musica della nostra provincia un po' in tutto il mondo. Siamo divertiti, siamo divertiti e spero ci divertiremo ancora. Poi quando fai questa musica per te, scrivi e suoni per te, e c'hai un riconoscimento effettivo e reale a livello nazionale e europeo, vuol dire che lo stai facendo bene, no? Quindi vuol dire che abbiamo lavorato bene in questi anni. Io spero di poter di nuovo tornare a fare dei bellissimi live come quelli che abbiamo fatto in passato, che può essere, tipo la tournée in Germania, è stata veramente una bella soddisfazione vedere saltare i tedeschi, ma non solo i tedeschi, perché la maggior parte erano italiani all'estero, tipo Francoforte e Stoccarda erano tutti italiani, quindi belle soddisfazioni. Angelo, stiamo entrando nella settimana Sanremese, la settimana che per definizione rappresenta un po' la musica italiana nel mondo. Ci sono delle esperienze di Nitro Fosca legate proprio a Sanremo? Noi abbiamo fatto nel 2017, abbiamo vinto la selezione di Sanremo Rock a livello nazionale, vincemmo le selezioni Puglia, tenendo che si appoggia, poi ci dovevamo presentare a Sanremo, avevamo organizzato un po' tutto e poi è successo che non siamo potuti andare, il nostro malgrado per via di nascite di figli, quindi nello stesso periodo è nato mio figlio, è nata la figlia del bassista di Giuseppe Lo Savio, il sassofonista doveva dare la tesi di laurea per veterinario, quindi è successo. Poi magari ci sarà un'altra occasione, però ci rimane il timbro di vincitori di Sanremo Rock, Puglia. Un'ultima battuta su come mettersi in contatto con i Nitro Fosca, perché tra un po' i concerti riprenderanno, noi ne siamo certi, dobbiamo essere ottimisti, ovviamente siete molto attivi sui social. Molto attivi sui social, abbiamo anche il nostro sito www.nitrofosca.it, e poi i contatti di Facebook e i numeri di telefono si trovano se ci vogliono contattare. Abbiamo anche già in programma, sperando per quest'estate, abbiamo già due date in Puglia, vediamo come si svolgerà il tutto. Io ti ringrazio Angelo, noi ci vediamo di nuovo tra qualche giorno, perché sarei ospite della prossima puntata di Chifrarte, il nostro format dedicato all'arte 360 gradi, non da il sabato alle 20, è stato un grande piacere conoscerti. Grazie, è piacere mio, grazie, grazie di cuore. Grazie.